Lo sapevi che una scelta consapevole del mezzo di trasporto ti fa risparmiare tempo, denaro ed energia? Ad esempio per spostarti di 5 km in auto emetti 1,2 kg di CO2 pari a 8 viaggi con un mezzo pubblico condiviso con altre persone. Eviti lo stress della guida e hai tempo per fare altre cose. E se puoi una bella giornata, prendi la bici, freghi il traffico, fai attività fisica, il tuo impatto ambientale equivale a quello di una camminata, cioè zero. In più conosci altre persone e ti godi la città. Dacci la tua opinione su www.posterheroes.org Plug Creativity nasce un anno e mezzo fa dalla voglia e dalla passione di un gruppo di amici, eravamo in dieci, che volevano mettersi un po' in gioco sulle tematiche sociali e ambientali. Gli strumenti utilizzati sono quelli della comunicazione e visto che ciascuno dei componenti di Plug lavora nel mondo della grafica ma con competenze diverse, quindi chi fa web, chi video eccetera o grafica su supporti cartacei, diciamo che proviamo a far confluire tutte le nostre competenze a servizio invece di una diffusione di tematiche di ampio raggio. L'attività principale è quella di sponsorizzare, di organizzare un concorso di comunicazione sociale che si chiama Poster Heroes. Poster Heroes è un concorso che è nato con l'associazione Plug ed è quest'anno alla sua seconda edizione. Nella prima edizione la tematica era stata quella delle energie, quindi si chiedeva alle persone di esprimere la loro opinione attraverso un poster 50x70 sul tema delle energie, pro nucleare, contro nucleare ma soprattutto quali alternative proponi. Fortunatamente questa tematica ha riscosso successo e ci sono pervenuti 475 poster da tutto il mondo, da 50 nazioni. È stato interessante vedere come nazioni come l'Iran o il Giappone siano state particolarmente interessate ad esprimere la loro opinione, abbiamo ricevuto moltissimi poster da paesi dai quali non ci saremmo aspettati un'adesione così importante. Il nostro intento è sempre stato quello di essere presenti nei contesti più svariati per cercare di trasmettere l'idea che il design debba essere prima di tutto alla portata di tutti. Spegni l'auto e tieni sempre in moto il tuo cervello! Sì! Sì! Grazie a tutti.